Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Sono settimane che si parla del presunto riavvicinamento tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due, nonostante la separazione, hanno mantenuto un ottimo rapporto, trascorrendo le vacanze insieme con il figlio Nathan Falco. Tuttavia, sembra che la showgirl abbia deciso di chiudere la relazione con il fidanzato Giulio Fratini per riavvicinarsi a Briatore. Secondo le ultime indiscrezioni, Gregoraci avrebbe deciso di lasciare Fratini a causa di litigi e scontri che hanno fatto scemare il sentimento. Inoltre, la presenza costante di Briatore potrebbe aver influito sulla decisione. Le motivazioni della separazione sembrano essere molteplici, scemato sentimento, troppe discussioni, differenze caratteriali e la presenza ingombrante dell'ex marito. Inoltre, da mesi si parla di un possibile riavvicinamento sentimentale tra Gregoraci e Briatore. Quest'ultimo è stato vicino alla showgirl durante un periodo delicato di salute e i due conducono insieme una rubrica su Rai2. Non vi sono conferme di un ritorno di fiamma, ma i fan sarebbero entusiasti di rivederli insieme, compreso il figlio Nathan Falco. Resta da vedere se la notizia si rivelerà vera, ma i diretti interessati saranno i primi a confermarla. La storia tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore continua a tenere banco. coi fan che sperano in un... o e o Grazie a tutti.